Musica Super Cup fa il suo ingresso in capo Alessandro Passarella Le due squadre che si giocheranno La Coppa della Serie A S Cup Del sabato pomeriggio il Chimo Verona Tra i pali Luca Baratto numero 22 Con il numero 7 Aldo Maranello Con il numero 4 Giacopo Barretta Con il numero 33 Luca Carlino il capitano Con il numero 20 Riccardo Roccino Il numero 17 Tommasillo Gregorio Con il numero 10 Andrea Ioime E con il numero 18 lui il bombe L'intramontabile Achille Serria Dall'altro lato aggueritissimo il Milan Si presenta in campo con Vincenzo Orlando numero 1 Numero 3 Carlo Coppola Numero 5 Salvatore Cismino Con il numero 17 Alessandro Scala Con il numero 10 Angelo Postiglione Con il numero 8 Genni taglia la tela E con il numero 19 Francesco Sica Il match finale Che decadrà il campione in assoluto della Serie A Super Cup 2014-2015 Attenzione ai massimi livelli In bocca al lupo che chiccano i migliori Un numero 17 Ragazzi date la mano Come sei? Sei lì? E' la mano Buon caldo ragazzi Adesso Ancora di qua? A te il caldo Adesso Ciao 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 Sì Barziale 1-0 Un po' di sfortuna all'infortuna di Alessandro che per voi è importante però nel finale di primo tempo si è visto un bel Milan che ha creato un paio di occasioni importanti Siamo un po' troppo schiacciati Non riusciamo a girare palla Alessandro in questo ci guida con la superioretà Numerica in avanti Insieme ad Angelo e Checco Dobbiamo trovare una chiave tattica Altrimenti penso che rimaniamo così Nonostante i buoni 5 minuti finali Cosa vuol dare a questa squadra nel secondo tempo? I primi 5-10 minuti Brillantezza e qualità Poi sicuramente stanchezza Vabbè, boccarlo poi ragazzi Ma dovevo avere le interviste finegate Grazie a tutti! 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 Vedete? Perfetta anche la conclusione di Riccardo Lo scimmio 4-4 parziale E adesso Jenny Taglia la tela È incredibile, fantastico calcio di rigore di Gennaro Taglia la tira Buasera se vi intervengo sono Max Mi sembrava palo, il rumore, l'effetto sul round Eh no, siete un rumore forte 5 a 4 Milan Adesso sul dischetto Tommasillo Sinistro perfetto, preciso, smarca il portiere Ancora in palità Per calci di rigore Ci ricorda un po' il Napoli qualche giorno fa Qualche giorno fa il Napoli, soprattutto il Napoli di Doha nella Supercoppa Adesso Carlo Coppa Mamma mia, lancia un armadio, la sconda, la porta Adesso Orlando che raccoglie i pezzi del mobile per terra La rabbia di Carlo Coppa Di vero, distrugge tutto Eh, non è da meno 6-5 Adesso Aldo Maranillo Gran gol per lui in gara E c'è Centrale Mi chiede un pronostico di un cucchiaino, lo vedi qui? Non credo, non credo il giocatore in campo Bisogna avere grande personalità, ma finale Questa è l'angelo, ce lo fa il cucciaglio Questa è l'angelo costiglione Questa è l'angelo costiglione 3 milioni in campo, angelo costiglione I portieri fino a questo momento non sono riusciti ad intuire le conclusioni Adesso Orlando proverà contro Ioime Belli rigori questi, tutti belli fino adesso Fin ad ora 8 rigori Non so, è arrivato vicino alle telecamere anche il signor Paolo Ilson Non so, mi chiede qualcosa Ora, questo è il momento clou Questo è il momento clou, silenzio per favore Sapatole Smito Questo la dura in questo momento Eh, c'è, anche lui lancia l'armadio Ricordiamoci 5 su 5 per il Milan Questo è deciso Il bomber, nonché il leader di questa squadra Milano campione della Serie A S-K Incredibile Vincolo Questa prima edizione Della Super Cup Milano Serie A Del sabato pomeriggio I campioni E le richiamo al cinese che si è fatto Andornava al culo tanto Ai rigori Sono voluti i rigori Per decretare I campioni Partita recuperata sul finale E vinta ai rigori Per decretare Per decretare Per decretare